Non me ne frega un cavolo di quello che vuole far lei, io sto qua fino alla fine, adesso aspetta lei. Perché mi ha ferito nel cuore, nell'orgoglio, mi ha mancato di rispetto, dimostrandosi egoista e pensando solamente a se stessa. E perché una volta nella vita voglio fare quello che reputo sia più opportuno e più importante per me.